questo è il livello del lago quest'oggi ad olginate questa è la famosa diga che di fatto come potete vedere regola l'afflusso e l'uscita dell'acqua dal lago di como le paratie sono completamente aperte come potete vedere per far defluire il maggior numero possibile di acqua ma tutto questo al momento non basta perché l'afflusso è davvero impressionante